Un caro saluto a tutti e benvenuti in nostra compagnia nel pomeriggio di Milan Spezia di campionato. Mille tifosi presenti a San Siro e ci sono anche alcune presenze nella tribuna di fronte alla nostra. Insomma, vedere un po' di persone a San Siro in sicurezza e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie è sempre qualcosa che fa bene al morale. Tonali allarga, molto bene per Alexi, Alexi avvicino Calabria, buona palla di Alexi, Leao, Leao anticipato all'ultimo, gran giocata di Alexi Salemeker. Gran palla di Gigio per Teo, Teo va, ecco la scorribanda di Teo, la scorribanda di Teo, palla dentro per Brian Diaz, Brian Diaz cerca il tiro, salta l'uomo, Brian Diaz il tiro, la parata di Rafael. Brian Diaz ci ha provato, Teo la fa rimbalzare, Teo la mette in mezzo, una bella palla, arriva Brian Diaz, area di rigore, Brian Diaz se la giusta, deviazione, allontana lo Spezia. Pericoloso Brian Diaz. Palla messa in mezzo, palla che scivola via, ha rischiato Davide, ha rischiato Davide, finisce a terra Davide. Bravo Tonali su Diaz, Diaz dentro, ecco Alexi, Alexi allarga per Calabria che la imbuca, Colombo ci ha provato, la deviazione è la rimessa dal fondo degli spezzini. Brian Diaz, mette in mezzo questa palla il colpo di testa ad anticipare Raffaeleao, ancora Brian Diaz, protestano quelli dello Spezia, la deviazione è il colpo di testa, è la palla che esce. Lorenzo Colombo ci ha provato ancora, Krunic fa tutto il campo, poi allarga bene per Alexi, Alexi, Alexi mette in mezzo il colpo di testa di Brian Diaz, peccato, peccato. Bel cambiogioco di Krunic, vediamo se rimane in campo, vediamo se rimane in campo, ci prova Davide, bravo Davide, bravo Davide, splendido Davide, ancora il tiro di Alexi alto. Grandissima cosa fatta da Davide. Lancio di Marchizza per Piccoli, spazio che si apre all'improvviso, attenzione Piccoli, Piccoli contro Gabbia, attenzione no, Verde libero, ho paura, Verde. Ciccio, enorme Ciccio, la palla in angolo. Stefano Pioli parla con Akan Cialanoglu, Cialanoglu al posto di Lorenzo Colombo. Cialanoglu, Cialanoglu, fa l'azione, Cialanoglu, Brian Diaz, Brian Diaz, il tiro! La palla fuori, grande e clamorosa occasione per Brian Diaz. Cialan la mette in mezzo, Leao, il gol di Raffaleao, il gol di Raffaleao che è l'assistente da buono. Raffaleao su assi di Cialanoglu, siamo in vantaggio, siamo in vantaggio. Speriamo sia confermato, stanno per entrare, Isma bene, KK che si, zampata di Raffaellino. Vantaggio rosso-nero, Cialanaleao, la coppia dell'1-0. Cialanoglu evidentemente ha cambiato il volto della partita. Entra Jens Pinterughe, tocca al norvegese al posto di Ibrahim Diaz. Vediamolo, il ragazzo di Budu, nato nel nord della Norvegia, affamatissimo e desideroso di venire al Milan. Teo se ne va, ecco Teo, Teo ha breccato, due contro due, Teo, 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 tiro, gol! Teo Hernández, la carrabbata di Teo, ecco la sarabanda di Teo! Lo spettacolo più bello dopo il big bang, grande Teo Hernández. Flash goal, goal, flash goal Teo, 2-0 per noi, 2-0 per noi, 2-0 per noi. Quando è così prepotente Teo Hernández, ti riempie gli occhi, ti riempie il cuore. Riparte adesso sale Meckert. Attenzione sale Meckert, invece lui l'ha tenuto in panchina a primo tempo, l'ha messo nel secondo tempo, Chessy di testa, Leao! Ancora! Doppietta di Leao! Doppietta di Raffaellino! Assist di testa di Chessy! 3-0 per noi, gran goal di Raffaellino. Quanto meno, gran goal per il Milan, insomma, posizione regolare, forse c'era anche un fallo da rigore su Ciala, guardate che cosa vi dico. E insomma, partita sgranocchiata, partita aperta. Leao la butta dentro, la crescita di Leao, ragazzi. Il ritorno in temperatura di Leao è la nota lietissima di questa nostra giornata. Attenzione, Cialanoglu, Cialanoglu, Teo ancora, Teo! La parata e la deviazione in angolo. Milan vicinissimo al quarto gol. Ci regaliamo una sosta in testa alla classifica. Ci regaliamo una sosta a nove punti, ci regaliamo un gran bel secondo tempo. piano partita di Stefano Pioli, perfetto. Doppietta di Raffaeleao, la prima con la maglia del Milan. Non segnava Raffaellino da Sampdoria Milan. Grande crescita di Leao. Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti.